Non è facile farli venire, però io ho constatato che c'è voglia di tornare a teatro, di vedersi in presenza, di incontrarsi tra persone, perché il teatro è anche socialità. Fra settori di certo più colpiti dal vortice della pandemia vi è quello della cultura. L'allentamento graduale delle misure con la fine dello stato d'emergenza dal 31 marzo scorso ha portato una boccata generale di respiro nella società e anche il mondo del teatro dunque ne trova giovamento. La Fondazione Teatri delle Dolomiti traccia un bilancio sulla stagione in corso che si avvia ormai verso la conclusione. Ci sono stati spettacoli molto seguiti, spettacoli in cui, per esempio, a gennaio avevamo Monio Vadia, che io pensavo si fa il teatro pieno con un personaggio come questo, ma in gennaio c'era un picco di aumento con l'Omicron 2 e è stato molto difficile far venire 250 persone a teatro con un tam-tam pubblicitario, quindi è stato altalenante, non è sempre stato pieno il teatro, a volte era mezzo e mezzo. Dopo un periodo difficile c'è dunque più che mai voglia di ripartenza, pensando già alle proposte per l'estate. Abbiamo intenzione di fare, per esempio, la rassegna Fulcis Open Air nel cortile del teatro Fulcis, sarà riproposta. Abbiamo probabilmente dei contatti nuovamente col TIB che l'anno scorso avevano fatto, il cielo sopra Belluno, tre spettacoli estivi in città. Ci sarà sicuramente il festival in settembre, vertigini organizzato da Slow Machine, riguarda molto i giovani e anche il territorio. Penso che durante l'estate ci saranno anche degli spettacoli, stiamo adesso definendoli, in collaborazione col Circolo Cultura e Stanfa, sei spettacoli subuzzati.